Aruba ha una precisa idea di cloud computing. Più scelta, più tecnologia e più sicurezza per tutte le soluzioni. Per questo forniamo una piattaforma basata su architettura di livello enterprise e l'hardware più avanzato che esista. L'hypervisor è una tua scelta, come le fasce di prezzo e i livelli di SLA differenziati. Sei alla ricerca di soluzioni e traffico illimitato e la massima flessibilità. Si chiama Cloud Pro. È fatto da server, virtual switch, bilanciatori e sistemi di storage. Oppure vuoi un server più semplice e pronto all'uso? Si chiama Cloud BPS. Ed è una certezza per gli altri casi. Vogliamo che tu sappia tutto del nostro Cloud. Con la massima trasparenza. A partire dalla gestione del dato fino alla sicurezza di performance eccezionali e risorse garantite. Nei nostri data center risiedono infrastrutture ridondate con server e apparati dei top vendor mondiali. E l'hardware? Il migliore in circolazione. Con dischi NVMe e processori Intel e AMD. No, non è tutto. Manca un requisito preziosissimo per Aruba. Un giusto prezzo. Sempre. Calcolato sulle tue scelte. Non credere solo alle parole. Prova tu stesso. Gratuitamente. Aruba ha una precisa idea di Cloud. Quello progettato per te.